Lisa Vannelli è ufficialmente la candidata a sindaco di Alleanza Civica per San Giovanni Valdarno. Dello schieramento fanno parte le liste civiche sangiovannesi Italia Viva e Azione. Lisa Vannelli, 46 anni di professione consulente del lavoro, nonché presidente dell'associazione San Giovanni Lab, spiega ai nostri microfoni i motivi di questa scelta. Sicuramente ha maturato dal momento nel quale mi è stata fatta questa richiesta e comunque perché ormai è da tempo, perché già ho partecipato alle precedenti amministrative con Francesco Carbini come candidato sindaco e quindi in questo tempo ho maturato comunque un'idea affinché questa città potesse avere un candidato di altro tipo, un candidato donna, un candidato molto vicino ai cittadini, ai giovani, alle donne e agli anziani. Tra i punti del suo programma la candidata individua quattro priorità. Il primo sono i giovani, il mio programma avverterà molto su quelle che sono le problematiche o comunque le dinamiche di cui hanno bisogno i giovani per vivere questa città di tutte le età, dai più piccoli fino ai trentenni. L'altra che mi sta molto a cuore, in modo anche naturale, sono le donne. Molto spesso le donne vengono comunque sia sottovalutate, ma comunque sia non gli viene data la possibilità attraverso politiche sociali per potersi realizzare. E poi c'è tutta quella parte che riguarda la cura della città. Il mio programma sarà proprio diviso nella cura verso le persone di ogni tipo, dal sociale alle associazioni, alla cura verso il territorio. Questa città ha bisogno di essere vissuta, di farla tornare ad essere al centro. E poi la cura verso le attività produttive. È una città che ormai sta vivendo in un declino inesorabile e ha bisogno che venga in qualche modo rivitalizzata. Farò tutto quello che mi è possibile perché amo San Giovanni. Ringrazio le liste civiche, ringrazio il segretario delle liste civiche Claudio Lalli, ringrazio i nostri consiglieri che per questi cinque anni hanno fatto un lavoro enorme e ringrazio soprattutto Francesco Carbini che comunque ha creato questo gruppo e che si è preso anche l'onere di portare avanti questa campagna elettorale.